ciao a tutti sono sissi bentornati sul canale oggi parliamo di un argomento il mio argomento preferito per eccellenza gioielli parliamo di gioielli e vi faccio vedere come faccio a pulire i miei gioielli in argento sono qui con un po della mia collezione non è tutta ovviamente sono i pezzi più vecchi quindi sono qui con un po della mia collezione e per farvi vedere come come pulisco come pulisco i miei gioielli in argento e quindi prima però di iniziare facciamo la propaganda canale perché mi dimentico sempre di farlo quindi se siete qui e non siete ancora iscritti male malissimo perché per questo 2022 noi abbiamo l'obiettivo di arrivare ai 1000 iscritti perciò se siete qui e non siete ancora iscritti andate subito iscrivervi qua sotto al canale perché io vi vedo e lasciatemi un like di supporto e sentiamoci qua sotto nei commenti perché mi fa sempre piacere parlare con voi dunque iniziamo subito e oggi non vi farò non ve li farò vedere tutti nel dettaglio ma ho preso spunto per fare questo video perché ho una new entry o una new entry nella mia collezione è praticamente questo anello che ho preso i giorni scorsi questo è un anello in argento con marcassite ok guardatelo qua come dopo vi presento il il panno con il quale pulisco i gioielli poi cambierò l'inquadratura e andiamo procediamo con il lavoro dunque ho preso questo anello in marcassite qualche giorno fa a treviglio in un negozio indiano appunto di gioielli di manufatti antichi è un negozio veramente bellissimo io non so adesso se abbia un insegna comunque nella via principale quella per andare in centro quando arrivate dalle poste quindi se siete di treviglio o comunque della zona se vi va di passare da questo signore molto simpatico un signore indiano che ha questo negozio di veramente cose fantastiche io purtroppo avevo poco tempo e perché c'erano le mie amiche che mi aspettavano e quindi non ho potuto fare ulteriori danni e quindi ho visto subito questo anello che mi ha rapito veramente mi piace tantissimo e sebbene abbia delle pietre piccoline e tra l'altro gli mancano anche delle pietre tra l'altro ho avuto uno sconto su questo anello perché gli mancano almeno 4-5 pietrine però mi piaceva talmente tanto ho avuto anche un bello sconto e me lo sono preso lo stesso questo anello devo dire che mi piace molto mi sta praticamente alla perfezione vedete che è praticamente della misura giusta è quasi stretto quasi dico quasi ma in realtà è della misura giusta e però capisco quando mi lavo le mani con il sapone che potrei perderlo quindi ovviamente questo non è un anello da mettere con la fedina di sicurezza perché vedete su un design del genere ci può stare ma qui la fedina di sicurezza non si può mettere quindi è un anello a cui ci devo prestare veramente tanta attenzione a non perderlo e niente vedete che è nero perché è antico insomma quindi è annerito rispetto a quell'altro vedete gli altri come sono tutti belli lucidi e lui è poverino e nero quindi ho preso appunto la palla al balzo per fare questo video lo lucidiamo non lo luciderò qua sopra perché voglio mantenere il look vintage il look appunto di argento invecchiato ma lo luciderò appunto qui sul sulla banda e magari sui lati sui laterali questo anello praticamente è simile molto simile agli anelli della collezione che ho preso tra l'anno scorso e quest'anno al mare a Igea Marina vedete adesso li metto facciamo che li indosso facciamo che li indosso così ve li faccio vedere li indosso tutti ok facciamo così va ok ve li indosso per farli vedere vedete questo è quello nuovo che ho preso e questi sono quelli che tra l'anno scorso e quest'anno mi sono prese già Marina sono praticamente sempre con un contorno di marca city in argento con un contorno di marca city e hanno la pietra hanno la pietra mentre lui non ce l'ha vedete che sono simili sono simili però si vede che questo è antico adesso non va a fuoco perché non vai a fuoco perché è concentrato sui miei occhi ecco infatti devo mettere la faccia davanti vedete appunto che sono simili ma si vede che non sono dello stesso designer e si vede che è etnico insomma un gioiello etnico bene la marca site vi dico due cose sulla marca site poi vi faccio vedere il prodotto per pulire la marca site è spesso scambiata con la pirite ma la marca site è molto più cioè abbastanza più preziosa della pirite nell'antichità veniva già utilizzata dagli inca per adornare i loro gioielli e ci sono tracce anche di marca site nei gioielli della di cleopatra e come proprietà della marca site la marca site aiuta a pulire l'aura di energie negative e è una pietra che aiuta anche con l'autostima e la confidenza interiore infatti io questo non lo sapevo sono andata appunto a leggermi queste informazioni prima di fare il video ma questo anello mi dà veramente da quando l'ho preso mi dà veramente gioia perché mi piace mi piace guardarmelo mi piace indossarlo lo sento proprio come se facesse parte del mio dito insomma è proprio mi calza pennello proprio quindi mi fa è un anello che mi fa stare bene mi fa stare bene guardarlo mi fa stare bene la sensazione di averlo e quindi mi piace molto adesso vi faccio vedere il panno che uso per pulire appunto e e poi andiamo a vedere come faccio a pulirli insomma ne facciamo qualcuno ne puliamo qualcuno quindi io il panno che uso è il panno di connoisseur non so se si pronuncia così ma questo è il marchio ed è un panno che in realtà si usa per pulire l'oro io questo pannetto l'ho comprato in una gioielleria a Igea Marina la gioielleria Steiner è una gioielleria storica di Igea Marina ed è la gioielleria che trovate sul lungomare di Igea Marina nell'occasione perché ho comprato appunto in quella gioielleria questo anello con sodalite vedete anche questo ha la pietra di sodalite in mezzo e la oggi non va a fuoco niente ha la pietra di sodalite in mezzo e il contorno è sempre anche lui di marcassite ok avevo preso questo anello che infatti è sannerito anche questo perché è tanto che non lo metto l'argento se non lo indossate se non lo se non lo usate purtroppo si annerisce e nell'occasione appunto di aver preso questo anello nella gioielleria Steiner loro me l'hanno pulito prima di ovviamente quando l'ho pagato prima di consegnarmelo me l'hanno pulito e lì mi è venuto il il lampo di genio detto ma anche io voglio questo pannetto me l'hanno appunto pulito con questo panno che è un panno sistema due panni il panno interno pulisce quello interno quello esterno lucida infatti vediamolo com'è è fatto di due pannetti ok qui davanti è marchiato con nussure gold jewelry polishing cloth quindi è un pannetto per pulire gli anelli d'oro però mi hanno assicurato in gioielleria che loro usano questo per tutto quanto va bene anche per l'argento voi potete prendere un panno anche per l'argento io per la mia amica vale gli ho preso un panno che va bene solo per l'argento è indicato per l'argento però probabilmente va bene anche per anche lì anche per l'oro infatti guardate che come l'ho utilizzato perché è nero è un po nero questo panno vi dura tutta la vita io è anni che ce l'ho quindi perdonate il fatto che è nero ma questo è praticamente questo è il panno per pulire ed è un panno impregnato di prodotto non è bagnato è io penso che sia un prodotto tipo in polvere che c'è dentro perché la sensazione alla mano non è una sensazione di bagnato però è un panno che ovviamente non si può pulire non si può lavare quindi tutto il nero che togliete dall'argento rimane su questo panno si può usare fronte retro mentre questo qui che vedete che è pulito è quello per la seconda fase la fase della lucidatura quindi voi prima lo pulite con questa parte del panno che è la parte di panno imbevuta di prodotto e poi lo andate a ripassare per togliere ovviamente il prodotto anche se invisibile non si vede quindi lo andate a ripassare e lo andate a lucidare con questa parte di panno come dicevo prima il panno che ho preso alla mia amica Vale che era un panno consigliato per l'argento aveva solo la parte imbevuta di prodotto e la signora della gioielleria perché non c'era disponibile questo panno che però potete trovare su internet la signora della gioielleria mi ha assicurato essere praticamente la stessa cosa però mi ha consigliato poi di dire alla mia amica una volta che ha passato la parte di panno imbevuta con il prodotto di andare con un panno del genere o comunque un panno anche microfibra a appunto lucidare il gioiello dopo aver passato la parte di panno con il prodotto benissimo quindi che dire allora voi potete io vi ho fatto vedere questo però come vi ho detto ce ne sono tantissimi in commercio io vi consiglio di prendere un panno appunto imbevuto di prodotto lo trovate anche su internet le trovate su amazon ad un costo contenuto meno dei 10 euro quindi vi consiglio il panno imbevuto di prodotto per pulire i gioielli e poi nel caso di passarlo con un altro panno magari anche quello degli occhiali o comunque un panno in microfibra per la parte di lucidatura quando sono andata in un'altra gioielleria sempre lì è già marina non sul lungomare ma in centro adesso non mi viene il nome ho preso questo bellissimo anello d'argento placcato oro con questa agata magnifica in mezzo anche qui questo era lucidissimo come anello prima però di consegnarmelo me l'ha pulito lui però me l'ha pulito è andato nel retro e io gli ho chiesto ma che cosa hai usato per pulire questo anello e lui mi ha detto il prodotto per pulire l'argento e poi l'ho sciacquato sotto l'acqua quindi io non ho ancora provato però mi piacerebbe provare a prendere l'argentil quindi pulirlo con l'argentil e poi sciacquarlo sotto l'acqua e asciugarlo il gioiello in questione magari è una prova che possiamo fare più avanti per ora concentriamoci su questo prima di pulire adesso tiro fuori qualche pezzo quindi ripuliamo ancora questa sodalite questa sodalite marcassite poi volevo ero curiosa di provare questo anello in turchese tibetano sempre anello in argento con turchese tibetano volevo provarlo con questo anello nuovo che ho comprato perché è da quando ho comprato questo anello che ho in mente mi è venuto in mente l'anello con turchese perché secondo me ci stanno benissimo e infatti guardate qua sono secondo me sono bellissimi insieme anche quello con la marcassite anche quello con la sodalite marcassite però eh adesso che l'ho tirato fuori secondo me si sposano bene entrambi forse questo di più questo blu della sodalite insieme sodalite marcassite che riprende quell'altro però anche questo con il turchese secondo me è un'abbinata di colori che mi piace molto sinceramente va bene dai allora vando alle ciance perché sennò qui facciamo notte cambio l'inquadratura e andiamo a pulirne qualcuno quindi puliamo sodalite turchese tibetano puliamo l'anello nuovo e poi che cosa puliamo puliamo tiriamone fuori un altro da pulire puliamo questo che è il primissimo anello con pietra in argento con pietra che io ho comprato e l'ho preso ad Ibiza questo questo è il primissimo anello che mi ha iniziato insomma a questa avventura di collezionismo di pietre preziose su su anelli su gioielli in generale e anche questo è diventato bello nero vedete quanto è nero praticamente l'ho preso ad Ibiza nel mercatino hippie di sante olalia e è del marchio ron Ibiza e niente quindi praticamente io un piccolo aneddoto prima di cominciare a pulire si vede che non ho voglia di pulire perché continuo a parlare comunque un piccolo aneddoto io sono arrivata davanti a questa bancarella piena di gioielli di pietre cioè era e sono rimasta estasiata no e ero in difficoltà perché cioè davanti a tutto questo ben di dio mi piaceva tutto e non sapevo scegliere no e dicevo e quindi dicevo ma cosa prendo cioè perché poi il signore della bancarella proprietario parlava in spagnolo io parlavo un po' in italiano un po' in inglese no quindi cercavo di farmi capire poi io tiro matti tutti cioè io quando vedo pietre vedo gioielli anche qui era l'inizio quindi non sapevo ancora nulla immaginatevi adesso che ne so mi piace mi interesso quindi immaginate adesso come tiro matta la gente ho cominciato subito a tirarli secchi tutti quanti e niente praticamente sono arrivata appunto davanti a questa bancarella ero in difficoltà ero estasiata e non sapevo che cosa scegliere quindi parlando con con questo col proprietario gli dico ma a me piace tutto io non so che cosa scegliere che cosa devo scegliere lui mi ha detto sei tranquilla mi ha detto tu guarda e mi ha detto la cosa che ti colpisce più di tutte le altre o comunque la la pietra il gioiello che ti ha colpito prima di tutti quindi che ti colpisce l'occhio che continui a guardare è quello che è quello giusto è quello che vuoi comprare quindi a non sapere né leggere né scrivere insomma come si dice quindi a non sapere proprietà non sapere nulla la prima pietra la prima il primo gioiello che vi colpisce è quello che dovete prendere insomma poi dopo vi andate a documentare quindi questo è il consiglio a chi si approccia al mondo delle pietre al mondo dei gioielli per le prime volte insomma voi non dovete prendere una pietra perché vi sentite depresse o perché vi serve per curarvi il mal di testa o questo quell'altro voi non sapete ancora niente quindi voi guardate quello la prima la prima pietra che vi chiama è quella giusta da prendere a me mi ha chiamato questa fantastica labradorite infatti la labradorite è la mia pietra preferita tra le pietre insomma non non preziose bene siamo arrivati bene ai 20 minuti prima che io comincio a combinare qualcosa quindi vando alle ciance giro l'inquadratura e puliamo ok eccoci qua io spero che si veda tutto bene non c'è qua il camera dead che mi assiste quindi incominciamo prendiamo un pezzo di panno non ancora sporco e puliamo anzi vi faccio vedere il confronto tra l'argento pulito e l'argento nero vedete io spero che si veda bene ok e continuiamo a pulire e poi andiamo a lucidare ci vuole un pochino di olio di gomito ma nemmeno nemmeno tanto è perché comunque viene vengono puliti subito e poi andiamo a lucidare ci vuole un pochino di olio di gomito ok eccoli qua quindi quattro anelli che abbiamo scelto sono tutti lucidati vi vengono le mani nere vi vengono le mani nere a fare questo lavoro è un lavoro un po da olio di gomito però è un lavoro che si deve fare ogni tanto vedete che l'anello che ho comprato l'ho lucidato solo sulla banda e sopra l'ho lasciato di insomma originale di argento antico questo era nerissimo l'ho tirato praticamente come nuovo ok ve lo provo ancora ve lo faccio rivedere indossato bellissimo questo è stupendo è veramente il mio primo amore questa bellissima labradorite blu poi ho lucidato anche questo la banda del dell'anello con sodalite marcassite la nuova copiata vincente questa è una copiata veramente vincente mi piace mi piace un sacco e l'anello in argento con turchese tibetano eccolo qui va bene abbiamo finito eccoli qui gli anelli che ho lucidato per questa volta i quattro anelli scelti per questa volta ho le mani nere vedetevi vengono le mani nere e niente quindi io per il momento vi saluto ricordatevi di iscrivervi al canale perché ovviamente qui c'è ancora tutta una collezione e ci sono anche altri pezzi che non ho qui da farvi vedere e piano piano ve li faccio vedere tutti però sto aspettando che un po la platea si ampli perché ogni anello ha una storia ogni anello ha una storia e quindi iscrivetevi se non siete ancora iscritti lasciatemi il like di supporto sentiamoci qua sotto nei commenti fatemi sapere qual è il gioiello preferito tra tutti quelli che vi ho fatto vedere e io vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao vado a lavarmi le mani